Raga già lo sapete io amo la formula 1 e correre con le macchine quindi per il mio compleanno stiamo andando ai kart ho organizzato con i miei amici una gara quindi ora vado a raccattarli e ci vediamo direttamente in pista che brutta partenza come 3? no io sono tempo grazie no bravi per me bravi per me no no vado 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no neanche la e l'avevo capito l'avevo capito primo di 0.4 c'è capito io 8.98 porta toga vecchietto come è arrivato quinto giulia l'ho superata due volte ma da fa quinto tosta 35 e 7 e 34 non aveva infatti usato quinto jerry scotti hai superato lui che è forte io ho rallentato quando sono andato in culo a lui perché sennò gli andavo in culo capito guarda posso fare la stessa cosa col mio telefono perché c'è la telecamera qua e niente praticamente se io attivo la fotocamera guarda cosa succede bam riprendo pure a te ho tanta sensibilità sono una grande stellona mi raccomando ragazzi seguitelo mettete mi piace e commentate forza inter questa domanda che ha iniziato a dirmi ha iniziato a dire sto ce l'ho spaventato è tipo è il paese più vicino a seconda mell'Italia e più diverso figo ma allora c'eravamo seduti così era qui no? dimmelo dai ci sei parlato con me per chi non è che ho capito a Grazie a tutti.